Sia lodato Gesù Cristo, benvenuti fratelli e sorelle. Oggi portiamo un messaggio sempre del mistico Julian, questo mistico del Messico del 2000 da parte della Beata Vergine Maria, alle donne dei nostri tempi moderni. Vi dico ora che l'inferno è pieno di anime come voi che si sentivano moderne e autorizzate ad andare contro il vostro Dio. Messaggio della Beata Vergine Maria, le donne dei tempi moderni dirette alla perdizione. Allora richiamiamo noi lo Spirito Santo per leggere e meditare questo messaggio che è abbastanza lungo e ringraziamo il cielo per queste rivelazioni. Figli miei sono la vostra Santissima Madre, la Vergine Maria, la madre del Figlio di Dio fatto uomo per la redenzione del genere umano. Figli miei sono la Pura, la Santa Immacolata, virtù di cui nostro Padre Dio mi ha donato e dotato per la missione che devo compiere. Il Figlio di Dio non poteva discendere dal cielo e incarnarsi in una qualsiasi donna, o preservata dal peccato originale per mantenere una situazione di purezza e dell'anima che del corpo affinché il mio Dio potesse vivere e sviluppare i Suoi primi mesi in un corpo e un'anima secondo la sua categoria di Dio. Era il tabernacolo più puro e vivente per ospitarlo qui sulla terra, una grazia immensa che ho ricevuto dal mio Dio e Signore. Con questa introduzione voglio sottolineare l'importanza che Dio Padre nostro attribuisce alla purezza, virtù che il nostro nemico, il maligno, attacco con tutta la sua furia e cerca da essa di sradicare ogni essere che viene sulla terra per servire il mio Signore. Vi abbiamo già parlato di questa virtù esaltata, ma ora voglio approfondirla per spiegare la differenza tra amore e desiderio che sono strettamente legati alla purezza. Il maligno, con i suoi molteplici inganni, vi ha condotto in una situazione di grave errore che danneggia gravamente il cuore del mio Dio. Vi ha fatto credere che il vostro corpo, la vostra bellezza esteriore, è ciò che conta e quindi vi porta a sprecare il vostro tempo. Il tempo di Dio sia nel prendervi troppa cura di mantenere bello il vostro aspetto esteriore, sia nel fare un cattivo uso del vostro corpo impedendogli di compiere l'opera di procreazione che vi ha chiesto per continuare a mandare anime sulla terra affinché con il suo amore in voi possiate sconfiggere le forze del male. In particolare mi rivolgo a voi, figlie mie, anime a cui vi ha toccato l'esteriore femminile. Il pudore non fa più parte della vostra vita. Credete che se non mostrate le vostre forme corporee non sarete in grado di attrarre il sesso opposto e da qui derivano innumerevoli errori che minano la vostra vita spirituale e disperdere il vostro tempo di Dio cercando come mostrarvi più belle per il mondo. La vostra vita si consuma solo nel vedere il vostro aspetto esteriore e cercare il miglior trucco per mettere in risalto la vostra bellezza. Le diete e la cura del cibo da consumare diventano una scienza per la stragrande maggioranza di voi. Parlate di cose superflue e peccaminose e solo allo scopo di essere ammirate, coccolate e mostrate come un trofeo nelle mani del vostro uomo. Cercate mode provocanti, cercate di frequentare i luoghi di perversione anche nonostante l'umiliazione subita in quelle tale di vizio del male. Permettete al vostro corpo di essere trattato come una cosa, come uno strumento di piacere umano per mostrare alle altre donne che siete capaci di amare. Vi lasciate, vi siete lasciate ingarnare del grande ingannatore, padre della menzogna e del male, per non compiere in voi l'opera di Dio. Negate al padre Dio la grazia divina della maternità per non intaccare la vostra bellezza esteriore e per non intaccare gli impegni casalinghi perché vi sentite degli esseri liberi che potete fare del vostro corpo e della vostra anima ciò che volete. In grande errore siete cadute. La vostra mancanza di spiritualità non vi permette di comprendere l'inganno in cui vivete ora. Sapete voi che il vostro corpo non durerà a lungo con la giovinezza e la freschezza che avete ora. Avete cambiato l'amore per il desiderio, errore che vi fa precipitare dal cielo all'abisso della virtù al vizio. Vi riempite di gioielli e di orpelli esternamente e svuotate il vostro interno della cosa più bella pura e santa che ogni donna potesse coltivare e amare. Amore che darà l'unità della famiglia, amore che sarà una diga di contenimento contro le forze del male, amore che farà durare la specie umana sotto le leggi e i decreti del vostro Dio. Ora vedo un gran numero di giovanette che lasciandosi trasportare dal mondo e dalle sue devezioni sono diventate come una piccola bambola di porcellana. Molto belle fuori, molto fredde vuote dentro, non c'è più materiale utilizzabile nella stragrande maggioranza di voi per ottenere una famiglia stabile. Se vi sposi nell'affrontare le prime responsabilità che normalmente avete quando mettete su famiglia, non sapete come risolverle e quando vi accorgete che vostro marito non cerca più solo la bambola, ma la donna e la madre per formare una famiglia, allora sentite che non potete più reggere il pacchetto poiché avete preferito soltanto come abbellirvi esternamente e non avete abbellito la vostra anima e le sue qualità e non avete aumentato i doni che Dio vi ha dato per poter svolgere la vostra missione di moglie e madre e di famiglia. Capite piccole mie che l'amore e il desiderio sono due situazioni molto diverse. L'amore è cibo e vita dell'anima che unisce far crescere l'anima e la persona nel suo insieme. Il desiderio è una passione disordinata del corpo, totalmente distaccata dall'anima, è un appetito animale, è un istinto che deve essere controllato dalle forze spirituali dell'essere umano. Se a volte ti senti osservato in modo sporco da un uomo è perché è il vostro modo di vestire il vostro aspetto, lo incita a farlo, non sarà in grado di osservare oltre ciò che gli permettete. Se molte di voi sono attaccate la vostra verginità è colpa vostra, avete perso il vostro pudore e modestia. Se molti di voi vengono prese come strumenti di piacere per un certo periodo e poi messe da parte come spazzatura è a causa del vostro vuoto e del vostro materialismo. Cercate di comprare tutto il possibile di riempirvi di monete che vi aiuteranno soltanto a guadagnare la vostra perdizione eterna quando per ottenerle vendete il vostro aspetto esteriore al miglior offerente. Non vi rispettate più, il vostro corpo è diventato merce e il vostro tratto superfluo e vuoto. La vostra conversione si è riempita di parole oscene e di argomenti peccaminosi e vuote mondani. Siete pochissime di voi, piccole mie, in cui sono ancora presenti la modestia e la virtù. Siete pochissime adesso che attraversate la vita con l'idea di servire il vostro Dio nella famiglia e nella continuità dell'amore dei vostri piccoli. Siete pochissime ormai, piccole mie, che cercate prima gli interessi del mio signore che i vostri. Siete pochissime adesso, piccole mie, quelle che cercate di formare una famiglia, di proteggere i tesori spirituali del mio Dio e di poterli trasmettere ai vostri piccoli, ai vostri figli. Siete così poche ore, piccole mie, che attraversate il mondo senza contaminarvi con le sue bassezze e peccati. La vanità e l'insicurezza personale, per mancanza di spiritualità e di preghiera, vi fanno perdere, vi fanno cadere facilmente. Come può questo mondo non essere come adesso, se voi piccole mie, le mie piccole donne, le principali incaricate di trasmettere i valori in famiglia, non li possedete più. Il mondo vi è incatenato al suo vuoto e alla sua bassezza e voi non volete più alzare gli occhi al vostro creatore, perché non volete più essere le donne, antiquate, altruiste, noiosse di un tempo. Ora vi sentite come le donne moderne, che potete fare quello che volete con il vostro corpo, che avete il diritto di uccidere i bimbi che stanno nascendo nel vostro grembo con contraccettivi e gli aborti. Vi dico che ora l'inferno è pieno di anime, come voi che si sentivano moderne e autorizzate ad andare contro il vostro Dio. Il diritto di dare e di prendere la vita corrisponde soltanto al vostro Dio, e creatore. E vi state prendendo una prerogativa che vi sta incatenando per l'eternità nell'abisso infernale. Il dono della maternità è una così grande benedizione che nell'antichità quelle che non potevano procreare erano considerate maledette e quelle che potevano concepire erano benedette da Dio. Figlie mie, ripensateci. Ripensateci, il tempo stringe e mio figlio deve tornare. Potreste dare un resoconto favorevole della vostra vita al vostro Dio? La vostra vita è stata secondo la volontà del vostro Dio? Avete dato vita a corporale e spirituale nell'accettare la maternità e osservando e trasmettendo le leggi dell'amore del vostro Dio e vostri figli? State vivendo nel mondo come una vera anima figlia di Dio? Tutte voi siete venuti al mondo per dare un esempio e una vita di santo amore e di virtù, e non per distruggere l'opera di Dio diventando complici del male. Pentitevi in questo tempo chi vi è concesso per riflettere e raddrizzare il vostro cammino. Ricordate che dal vostro Dio amore potrete ottenere tutto il perdone necessario affinché in seguito possiate guidare la vostra vita futura lungo le vie del bene che Lui stesso ha tracciato per ciascuna di voi. Assecondate i desideri del vostro Dio ed Egli si occuperà dei vostri per tutta l'eternità. Il vostro tempo sulla terra è troppo breve rispetto all'eternità che Egli vi darà come ricompensa per le vostre buone azioni e il buono adempimento della vostra missione. Ricordate che siete venute sulla terra per servire il vostro Dio, grande onore che è concesso alle anime che Egli sceglie, e tutte voi che avete ricevuto il dono della vita siete state scelte. Ringraziate il vostro Dio per questo grande dono. Correggete la vostra vita e assecondate i Suoi desideri con tutta la vostra volontà e il vostro cuore affinché Egli vi ricompensi riccamente. Prendete da me, figliore mio, il mio esempio, la mia guida e il mio amore per il nostro Dio perché io possa condurvi nel migliore dei modi alla meta finale e perché possa ottenere del mio Signore un grande premio eterno per ciascuna di voi. In voi piccole mie, ma soprattutto il tornare sul vostro esteriore per il bene di tutti. Siete anime al servizio del vostro Dio, pregate profondamente perché è il maligno, non vi inganni più, comprendete il vostro valore sia per la propagazione della vita sia per i buoni costumi verso l'intero genere umano. Pensa di voi piccole mie, la vita di preghiera, di unione familiare e di trasmissione dei buoni costumi della devozione cristiana non può aver luogo. Valete molto più di quanto immaginate, ma soltanto quando guardate dentro di voi cercando la guida divina e la ingrandite verso il vostro esteriore. Il tesoro che Dio ha messo dentro di voi è grande, non sprecatelo. Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, nel nome del mio Figlio Gesù Cristo e nel mio Sposo, lo Spirito Santo di amore e vi benedico nel santo nome come madre e servo e figlia del mio Dio Signore. Vincete la mia giustizia con il vostro accambiamento sincero. Sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di varia. Sia lodato Gesù Cristo, il cielo attraverso profeti e mistici ci avvisa dell'urgenza di aver informato stampa i libri delle Rivelazioni Marianne. Per ricordarci, quando non avremo internet e la tecnologia, a causa della guerra dell'anticristo, degli eventi e profizie che si compiranno, oltre alle preghiere sacramentali che ci occorrono adesso prima, che siano impossibili da trovare. In descrizione troverete il link per accedere ai miei libri. Ciao! 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 Grazie a tutti.